L'amministrazione comunale di Biceglia ha quindi riapprovato il bilancio di previsione 2019-2021 che il Tar su ricorso delle minoranze aveva bocciato a causa di alcune inadempienze amministrative. La battaglia giudiziaria non si è comunque conclusa perché altri ricorsi, anche contro la riadozione, sono già stati preannunciati dalle opposizioni. E qui crediamo che qualche riflessione sia necessaria. Innanzitutto il sindaco Angarano evitasse toni trionfalistici per essere uscito, forse, da una situazione che egli stesso aveva creato, anche perché la delega al bilancio ha voluto mantenerla lui. In questo è bene essere chiari, il ricorso delle minoranze può essere giudicato strumentale quando si vuole, ma se il Tar lo ha accolto è perché avevano ragione. E se avevano ragione la colpa è di chi ha sbagliato, non di chi ha fatto rilevare l'errore. Ci sembra un ragionamento elementare, comprensibile anche da Angarano, che invece continua a spacciare l'idea che la colpa del blocco amministrativo e conseguenti disagi causato dall'indisponibilità di un bilancio da riapprovare, non sia la sua e di chi ha seguito procedure errate, dimostrando dilettantismo se non incapacità, ma di quei cattivoni delle opposizioni. Del resto, di provvedimenti portati in consiglio e poi ritirati perché preparati a cavolo, ne sono piene le cronache. Ultimo, il piano triennale delle opere pubbliche, su cui l'amministrazione ha fatto dietro fronte nel consiglio comunale dell'altro ieri. Ribadiamo pertanto il consiglio a Angarano di evitare proclami sulla tenuta della maggioranza che non era, in dubbio, accomunata com'è dall'inadeguatezza, ma, come si dice, di camminare muro muro cercando di rilanciare l'azione della sua amministrazione. Detto questo, però, una lancia a favore, o se preferite, sulla schiena di Angarano va spezzata, nel senso che un'opposizione non può essere basata quasi esclusivamente sul cavillo, sulle difformità più lievi, sulla mezza giornata di ritardo, trasformando il confronto politico in un affare da zecca garbugli, perché in questo modo si finisce con il dare ragione a chi parla di azione strumentale, se non in mala fede. Ormai la discussione, più che in punta di diritto, ci sembra in punta di cialtroneria, emblematiche, in tal senso, le immagini dell'ultimo Consiglio Comunale, con l'ex sindaco Francesco Spina, che come oprimatore della sceneggiata napoletana, imperversava indisturbato, inchiodando la maggioranza a leggi, articoli, commi e capoversi, senza reazione alcuna, e andando anche oltre il mero giudizio politico e amministrativo. Perché di Angarano si può dire che è inadeguato come sindaco, attaccata alla poltrona, ma moralmente è assolutamente inattaccabile. Una maggioranza che anche in questo dimostra la sua pochezza nel farsi attaccare in quel modo da spina. Da sfina! E qui, come diceva Peppino a Totò, ho detto tutto.